Qui vi presentiamo le 5 migliori action cam subacquee. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Sony HDR AS50 Action Camera Full HD. L-Activity Sala HDR AS50 di Sony piccola e di lunga durata, che consente di effettuare riprese po' con sicurezza subacquea fornita. Attributi avanzati e un design casual ti motiveranno a divertirti a sviluppare video su base giornaliera. Questa videocamera Activity ha tre luci di conteggio sulla parte anteriore, che conducono e anche sulla base del gadget. In questo modo puoi controllare comodamente la registrazione in piedi da tutte le istruzioni e sarai anche in grado di ascoltare il segnale acustico del suggerimento. Passando al numero 4. Ricoh WGM2 Ricoh WGM2 Action Camera per riprese video 4K. Alloggiato in un corpo compatto e anche leggero, realizzato per essere totalmente chiuso oltre che particolarmente immune agli effetti, il WP-WGM2 ostenta molte funzioni innovative come la registrazione di pellicole Full HD 4K e anche l'obiettivo ultra grandangolare per video vibranti e interessanti come mai. Oltre alla straordinaria efficienza nelle situazioni più impegnative, questa videocamera di attività è impermeabile fino a una profondità di 20 metri circa 2 ore, resistente agli urti con una caduta da un'altitudine di circa 2 metri oltre che immune al freddo circa livelli di temperatura di meno 10 per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Garmin Virgo Ultra 30 Action Camera GPS. Al terzo posto troviamo la videocamera Virgo Ultra 30 Activity di Garmin. Il Virgo Ultra ha la possibilità di nastro videoclip circa 4K a 30 fps per catturare foto molto più specificate, più luminose e molte più concise informazioni di ogni tua esperienza. Questa fotocamera elettronica è inoltre in realtà uno stabilizzatore di immagine a tre assi sviluppato, quindi che tu sia su uno snowboard, una bici o un'automobile fuoristrada. La nastratura non si sentirà mai davvero instabile. Devi mai richiedere di utilizzare la cam quando si esaurita, installata su un casco o appena le mani sono complete. Virgo Ultra utilizza il controllo vocale. Lo stilo TG4 di Olimplus ha la capacità di catturare tutto ciò che la natura ha bisogno di fornire. Utilizzando una delle quattro impostazioni di ripresa macro, ad esempio l'esclusiva modalità di impilamento messa a fuoco, puoi esprimere il tuo pensiero creativo. Con la capacità di avvicinarti incredibilmente a parassiti, fiori e fiocchi di neve, questa fotocamera ti permetterà di registrarli chiaramente in tutte le loro informazioni più microscopiche. Quando sei fuori oltre che in natura, non sempre hai la capacità di stabilire la scena, tuttavia con lo zoom ottico grandangolare 4X del TG4, non lo richiede. E infine il numero 1 della nostra lista. GoPro Hero 5 Videocamera 12MP L'elemento iniziale nella nostra lista di controllo è la fotocamera GoPro Hero 5. Sicuramente al momento ne sei a conoscenza almeno una volta, poiché questo marchio è preferito nel settore delle videocamere, in particolare tra quelle sottomarine. In grado di registrare magnifici video in 4K e immagini da 12MP in singola impostazione, serie e tempo, questa camma è progettata per essere resistente. È, infatti, resistente all'acqua fino a 10M33 piedi senza la custodia, e inoltre, inoltre, avrai l'opportunità di vedere e duplicare anche i videoclip che hai effettivamente visualizzato in anteprima, tutti sulla tua GoPro. Maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.